Siamo arrivati? No. 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 Ma porca puttana. Ho detto di no. Cazzo hai una mira incredibile, neanche mio nonno riuscirebbe a farla. Ti è andata bene, ti ho mancato. Certo che sei proprio una testa di cazzo e, mo ti copio i tuoi gesticolare da farvi. Scusa, devo andare a cagare.